Non è che ripartire e cercare di far meglio, perché questa è una partita dove dobbiamo assolutamente fare punti. Si aspettava un passo indietro da un punto di vista dell'atteggiamento dopo la bella vittoria contro il Catanzaro? Io non mi aspetto nulla prima della partita, so che ogni partita va combattuta e lottata. Oggi abbiamo fatto tanta confusione, probabilmente io sono il primo e devo pensare di fare le cose nel migliore dei modi, però questa non doveva pensare a fare punti, era una partita dove dovevamo fare punti. A chiudere mister, comunque primo posto in classifica, nulla è perduto, insomma il Bari resta lì. No, ma questo non è un pensiero, non è un problema, noi abbiamo fatto tanti punti, questa è una partita dovevamo farli, non ci siamo riusciti, per cui ricominciamo, ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di migliorare velocemente. Grazie mille mister Mignani, a breve avremo sottili Claudia.